Ben ritrovati cari amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del Dottor Torchio, che io saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno, medico-chirurgo specializzato in medicine dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, Dottor Torchio, l'argomento di oggi è la pressione bassa, perché noi parliamo sempre di pressione alta, ma la pressione bassa, cioè che cosa si può fare per, diciamo, non dico combatterla, ma andarla un po' a lineare, insomma? Innanzitutto, il consiglio è sempre quello di sapere se la pressione bassa è costituzionale, quindi come ci sono persone che tendono verso l'alto, al contrario. Però dobbiamo anche escludere delle patologie che possono manifestarsi in questo modo, per esempio delle anemie che possono essere anche più o meno gravi, oppure anche l'ipotiroidismo. Quindi, soprattutto nella donna, intorno ai 40 anni, ai 40 anni in avanti, quando i disturbi endocrini, l'ipotiroidismo diventa un pochettino più frequente, è estremamente importante che verifichi di non andare in ipotiroidismo, perché questo senso di stanchezza, di pressione bassa potrebbe tradire questo problema. Ma abbiamo anche la depressione. La depressione purtroppo riduce l'energia, riduce la produzione di serotonina, di tutte le sostanze del buon umore, ma veramente che si fanno sentire bene e che ci danno tono. Quindi anche la depressione può essere un aggravante per la pressione bassa e poi naturalmente i fattori esterni, cioè il caldo eccessivo. Ma mano che ci avviamo verso la stagione calda, il corpo quando deve liberare il calore e quindi ha questa vasodilatazione, porta sangue in superficie, ovviamente la pressione scende perché il sangue si distribuisce sul terreno molto più vasto. Devo dire che le persone di pressione bassa beneficiano quasi tutte in maniera direi considerevole dell'attività fisica. Ah, anche musicale? Anche e soprattutto musicale perché è libera l'attività musicale, ci obbliga ad andare a tempo e usare quindi l'emisfero destro che è quello che ci manda nelle cosiddette onde alfa che sono quelle in cui i due emisferi si sincronizzano e in cui si crea anche una maggiore produzione di ormoni dell'energia, quindi soprattutto la serotonina, le cosiddette endorfine del buon umore. Ma quello che è importante fare è anche solo una passeggiata, nel senso che una passeggiata veloce di almeno 30-40 minuti per esempio già migliora molto al nostro livello energetico, ci fa sentire meglio ed è veramente un tocca sana anche per chi soffre di pressione bassa. Ma si può curare con l'alimentazione oppure no? Si può curare con l'alimentazione nel senso che noi sappiamo che se si mangia troppo la pressione si alza e se si mangia poco si abbassa. Sapremo anche che più aggiungiamo sale e più si alza la pressione e viceversa, ma non è che chi soffre di pressione bassa debba per questo abbuffarsi, esagerare poi con l'alimentazione o introdurre troppo sale. Quindi ci possiamo anche rivolgere un po' verso quelle erbe che possono essere utili, per esempio i cibi piccanti, leggermente piccanti, se non sono utilizzati in maniera esagerata, sono tutti quanti stimolanti per la pressione. Quindi se noi aggiungiamo pepe, peperoncino, ma anche soltanto un po' lo zenzero, tutto ciò che è leggermente piccante, abbiamo dei tè indiani, masala tè, il tè mu cinese, sono yang, cioè calore, producono calore e ci possono aiutare per la pressione bassa. Poi abbiamo ovviamente tutte le nostre bevande citanti che conosciamo, guarda, te le ho scritte perché conosciamo bene il tè e il caffè, però il guaranà che è un po' il caffè che arriva dal lontano ovest, dalle Ande, poi il ginseng, che è una radice il ginseng, giusto? Il ginseng è una radice e tutte queste, la pappa reale che è un po' ricostituente, queste cose che abbiamo detto possono dare però un po' di tachicardia, quindi dobbiamo fare attenzione. Invece la liquirizia alza leggermente la pressione ma può dare un po' di ritenzione idrica, quindi è sconsigliata per le donne che hanno le caviglie goffio e che soffrono di quei problemi. L'eutero cocco è un ottimo ricostituente, così come la muira puama e la schissandra. Oppure possiamo utilizzare il ginkgo biloba che migliora la circolazione e la memoria alza leggermente la pressione senza però creare effetti pericolosi. Perfetto, grazie dottor Torchio. Io ragazza a casa vi consiglio di andare a cercare sul canale di GRPD YouTube digitando i consigli di dottor Torchio nel caso vi foste persi una puntata. Buona serata!